Ciao, sono Guido del pasticciotti.ai e oggi faremo il dolce di riso soffiato. Seguici! Gli ingredienti, che trovi anche nella descrizione del video qui sotto, sono 125 g di riso soffiato, 7 tavolette di Mars e 200 g di burro. Taglia a pezzi le 7 tavolette di Mars. Quindi taglia a tocchetti anche il burro. Scioglia bagnomaria sia il Mars che il burro, mescolando un po' alla volta, fino ad ottenere un composto cremoso. Versa il composto così ottenuto in una terrina capiente assieme al riso soffiato. Quindi mescola velocemente e a caldo. Continua a mescolare per bene, fino a che la crema calda di burro e cioccolato non si sarà completamente amalgamata con il riso soffiato. Infine, versa il composto in una tortiera o in uno stampo, per dargli la forma desiderata. Metti il dolce in frigorifero per almeno due ore. Trascorso il tempo necessario, taglia il dolce a pezzi e disponili su un piatto da portata. Perfetto per feste, compleanni o anche semplici merende, il dolce di riso soffiato si prepara in un baleno e conquisterà i palati di grandi e piccini. Provare per credere! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare un mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.